Torniamo in studio, parliamo di alcune vicende che riguardano stavolta la città di Catania, in particolare vogliamo riaffrontare il problema della palestra di Piazza Lupo, dove potrebbe sorgere un nuovo parcheggio. Io ne abbiamo parlato ieri con l'assessore comunale, lavori pubblici Giuseppe Arcidiacono. Oggi abbiamo due ospiti in studio che tanto lavoro stanno facendo all'interno della palestra. Si tratta di Nadia Arancio e Alice Valenti. Nadia Arancio è una volontaria del Laboratorio Urbano Popolare Lupo e Alice Valenti è invece dell'associazione Partecipa. Voi avete detto che non è assolutamente un ricovero per senza tetto, noi stiamo facendo un gran lavoro, un lavoro che anche ieri, ribadiamo, l'assessore Arcidiacono ha comunque ribadito. Ci sono delle ragioni ben precise perché voi volete continuare la vostra opera e quindi deve rimanere tutto così com'è. Nadia Arancio. Il Laboratorio Urbano Popolare è uno spazio che è stato riaperto nel 2014 da un gruppo di cittadini attivi e associazioni che l'hanno reso negli anni sempre più fruibile alla città per l'organizzazione di attività che venivano o dai singoli o dalle associazioni. È gestito attraverso un sito internet, i curiosi possono andarlo a visitare, si tratta del sito www.palestralupo.org ed è gestito in maniera trasparente e aperta attraverso il sito appunto dove è possibile richiedere l'utilizzo degli spazi e attraverso una riunione di gestione. Ovviamente in questo momento abbiamo sospeso le attività dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e abbiamo il timore che nel caso noi dovessimo lasciare la struttura riverserebbe nello stato di abbandono in cui ha riversato per 20 anni prima del nostro intervento. I vicini ci raccontano di fuochi tutte le notti all'interno della struttura perché la struttura era abitata. Voglio chiarire che oggi la struttura non è abitata. Ci sono due senza tetto che vivono in una baracca che è appena al di fuori della struttura ma sono manifestazione di un problema che è molto diffuso in città ovvero il fatto che ci sono persone che non hanno una casa. Questi due signori abitavano dentro la struttura per periodi prima del nostro intervento dopo il nostro intervento sono rimasti nella piazza però nella parte esterna. Quindi il timore è che nel caso noi dovessimo lasciare la struttura questa riversi nello stato di abbandono in cui riversava appunto abbiamo parlato dei fuochi, degli interventi dei vigili del fuoco per spegnere questi fuochi numerosi negli anni negli interventi dei poliziotti per prestare soccorso o raccogliere i corpi di ragazzi tossicodipendenti che venivano ritrovati all'interno dalla struttura dai poliziotti che parcheggiavano lì di fronte. Insomma, circa tutta questa questione abbiamo voluto aprire un discorso che è cominciato nel 2014, che richiede ai cittadini di essere parte attiva all'interno delle scelte che si fanno sopra un immobile comunale e che ci ha visto un pochettino schiacciati dalla scelta del comune di inserire il parcheggio Lupo nel piano parcheggi. Tra l'altro diciamo che la richiesta di finanziamento è rivolta a un bando che però non finanzia parcheggi all'interno del centro storico quindi questa è stata la prima causa per voler accendere un dibattito pubblico sulla questione. Appena abbiamo vinto questa notizia abbiamo convocato un'assemblea pubblica a cui hanno aderito tantissime associazioni, gruppi, collettivi, centri sociali da cui è partita poi una petizione. E proprio di questo voglio parlare perché anche Città Insieme comunque ha fatto un appello, ha partecipato chiaramente insieme a voi dalla lettura dell'avviso regionale del 1845 si evince che il bando, scrive Città Insieme persegue finalità di dotare i comuni della Sicilia di parcheggi interscambio che favoriscono il decongestionamento del centro storico. Però questo come appunto avete già sottolineato non è contemplato il centro storico in tutto questo. Alice Valenti Sì, intanto grazie per averci dato la possibilità di esprimere una voce che è diversa rispetto a quella che va per la maggiore cioè l'idea che un bene comunale possa essere destinato a un parcheggio e non tenere conto di quella grande parte della popolazione che ritiene che invece un parcheggio oltre ad andare contro i requisiti minimi necessari per avere questo nome perché un parcheggio nel centro storico è uno simoro un parcheggio scambiatore per arrivare al centro storico che già insiste sul centro storico quindi congestionando ulteriormente il traffico cittadino è uno simoro e grazie per averci dato voce perché noi siamo quella parte di città che ritiene che il parcheggio non sia uno degli obiettivi che la città di Catania debba perseguire all'interno della zona del centro storico che è una zona turistica molto frequentata sia dai residenti che dai turisti le alternative ci sono sono state espresse dalle numerose associazioni che si sono riunite intorno a questo argomento di discussione che sta tenendo un dibattito molto vivo e mi sembra che sia proprio un'occasione da non perdere in cui l'amministrazione può tenere conto di quelle associazioni che operano nel territorio da anni che hanno un atteggiamento aperto e fanno un lavoro costante nel territorio e conosco le dinamiche del territorio perché non prendere atto di questi suggerimenti lega ambiente, mobilità sostenibile, città insieme partecipa sono numerosissime le associazioni di cittadini che hanno firmato la petizione per andare contro alla costruzione di questo parcheggio che ripeto non ha i requisiti per insistere in quella zona che è un centro storico e potrebbe essere destinata a delle attività e delle finalità molto più utili che guardano al futuro non che guardano al passato Ieri ad esempio su questo argomento abbiamo sentito anche la Confocommercio che è una delle associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti loro dicono Piazza Teatro Massimo e comunque la zona del centro storico è particolarmente frequentata soprattutto la sera quindi la presenza di un parcheggio potrebbe in qualche modo insomma decongestionare il traffico voi non siete d'accordo su questo? Beh no perché è vero che la Piazza Teatro Massimo è una zona frequentata dalla Movida e dai Catanesi Piazza Pietro Lupo dovrebbe diventare anch'essa è attaccata una zona frequentata dai giovani e dalle persone che vogliono godere della città non diventare un parcheggio io capisco l'esigenza dei commercianti mi rendo conto che viviamo in una contingenza molto difficile per chi fa commercio e si trova ad affrontare delle dinamiche che vanno ben oltre il discorso della possibilità di parcheggiare davanti al negozio ma non è questa la risposta non è una risposta che guarda lontano è una risposta piccola veramente il parcheggio tra l'altro c'è un parcheggio enorme a 200 metri da Piazza Lupo dalla Palestra Lupo che viene sottoutilizzato perché non rendere più maggiormente fruibile quel parcheggio che si trova in un'area che non è dentro che non insiste nel centro storico come invece Piazza Lupo circondata da edifici antichi immaginate già il tetto di lamiera che insiste lì ulteriormente implementato magari con una cosa a più piani perché lì il parcheggio interrato tra l'altro non si può fare per motivi idrogeologici non semplicemente per una questione di soldi ma proprio perché insistiamo su una zona che è centro storico che va tutelata in altro modo pensate al flusso turistico che arriva al porto che si riversa nel centro passando proprio da quella piazza che trova lì un tetto di lamiera non trova un ufficio informazioni non trova un'area verde non trova un parcheggio scambiatore per le biciclette e non per le macchine non trova nulla trova il nulla noi proponiamo una visione della città che sia diversa e io prego l'amministrazione comunale di abbracciare queste istanze che sempre più forte urlano e prenderle come un aiuto non come una spina nel fianco parliamo invece del lavoro che è stato fatto in questi anni all'interno della palestra della vostra attività come avete trasformato questo logo che era abbandonato da tempo ma diciamo che insieme a questa esperienza abbiamo appreso quanto gli scarti e ciò che viene abbandonato e ciò che viene considerato appunto scarto da una società di consumismo possa invece essere considerata una risorsa infatti proprio in questi giorni in cui il comune si trova in dissesto economico per uno sperpero di denaro esagerato invitiamo tutti a partire da noi stessi a continuare a pensare in un'ottica in cui lo scarto possa diventare un valore in effetti la palestra per quanto abbia necessiti di una buona ristrutturazione dovranno essere spesi dei soldi non per forza del comune anzi noi come associazione saremmo disponibili a partecipare a dei bandi ci siamo costituiti come associazione che ha proprio questo obiettivo di trasformare lo scarto in una risorsa e quindi noi saremmo disponibili come associazione a partecipare a dei bandi europei regionali che possano finanziare la ristrutturazione di questi immobili proprio perché pensiamo che uno dei pochi immobili comunali che si ritrovano all'interno del centro storico che sono di proprietà del comune non debba essere abbattuto ma debba essere valorizzato se ne sono accorti in realtà anche i membri della vecchia amministrazione che hanno reso diciamo disponibile come esempio di bene comune la palestra per un bando di architetti che si chiamava Architetti Cercasi indetto da un'associazione nazionale di architetti in cui veniva premiato il progetto più interessante infatti negli anni anzi nel 2016 numerosi sono stati gli architetti che hanno visitato i nostri spazi con la nostra mediazione per disegnare questi progetti che vedevano sorgere all'interno di Piazza Lupo e trasformavano la palestra da quella che era in quel momento in un centro polifunzionale di quartiere nuovo e completamente rivisitato dal punto di vista architettonico infatti in realtà il comune abbiamo mostrato alcuni di questi progetti in questo momento dispone di questi progetti potrebbe richiedere tutti i render sviluppati da questi giovani architetti all'associazione di architetti che indisse il bando insomma l'idea che abbiamo è che uno dei pochi immobili comunali che si ritrova all'interno della civita non debba essere abbattuto debba essere rivalorizzato e che debba essere deciso insieme che cosa fare di questo immobile mettendo insieme tutte le parti coinvolte a partire ovviamente dall'amministrazione noi che abbiamo agito all'interno del territorio per tanti anni le associazioni che come noi agiscono sul territorio i commercianti che sono sicuramente un pezzo vivo della città e non di meno i cittadini stessi sia quelli che vivono intorno alla struttura che quelli più lontani che negli anni hanno tutti usufrito della struttura Valenti siamo in conclusione voi avete parlato con l'amministrazione avete aperto un dialogo c'è una petizione quindi avete un documento comunque da presentare sì esiste una petizione di oltre 500 firme tra semplici cittadini e associazioni che operano in vari ambiti nel territorio catenese e io vorrei a questo punto lanciare un appello all'assessore Arcidiacono che ha mostrato grande apertura nel volere ascoltare le ragioni dei volontari della Lupo e di questo gruppo che si è costituito che voglio insistere sul fatto che abbraccia varie facce della città e gli rivolgo l'appello vorrei tanto che lui che è rimasto molto colpito da quello che ha visto a Palestra Lupo perché esteriormente è un obbrobrio ma dentro c'è c'è molto che lui possa diciamo veicolare quello che lui ha sentito e ha visto all'interno di Palestra Lupo possa veicolarlo all'esterno ai suoi colleghi della giunta e provare a cambiare la direzione bene grazie speriamo che questo appello giunga a destinazione e chi lo sa vedremo daremo sempre spazio e voce all'amministrazione comunale ma anche alle associazioni che operano nel territorio e vedremo vedremo che cosa succederà grazie ancora a Nadia ed Alice e noi chiudiamo questo appuntamento con ultima news ci ritroviamo tra poco con altre news e servizi grazie